Grande festa stanotte per le strade di Kharkiv, dove i tifosi ucraini hanno festeggiato fino all'alba la vittoria in rimonta sulla Svezia di Ibrahimovic per 2-1. Eroe della serata, il re di vivo Andriy Shevchenko, che firma una doppietta di prestigio. Ad andare in vantaggio però era stata la Svezia con il solito gol di Ibra, ma poi il passato del Milan ha avuto la meglio sul presente. E dunque l'Ucraina schizza in vetta al girone di, visto il pareggio fra Inghilterra e Francia. Ora per i padroni di casa c'è la sfida ai transalpini, mentre l'Inghilterra di Roy Hobson dovrà vedersela con la Svezia di Ibrahimovic.